signore e signori buonasera benvenuti a teatro nazionale io sono giulio riba insieme a lei richardson rappresento la direzione della sdm la scuola del musical grazie per essere qui ad appoggiare cosiddettosissimi ragazzi che questa sera terminano il loro tricorso e il nostro ansambio coro e tecnici del primo anno è un onore e piacere di presentarvi la nostra direzione artistica chiarabetti la nostra vice direttrice è un eccezionale a luci mistroni la nostra direttrice alla quale io passo la parola per presentare questo team di eccezione la patata con le leggi che così se dimentico dei noi è tutta colpa mia grazie per essere qui io ci tengo assolutamente a presentare questo questo nuovo team quest'anno capitanato da una regia d'eccezione che è mauro simone le coreografie di andrea berzitto la direzione musicale di gianluca stitotti con il supporto impeccabile di giacomo buccheri il vocal coaching viene venieri la difficile traduzione delle liriche di gianluca e rilato ci tengo a dire questa cosa poi ovviamente voglio ci tengo a ringraziare tutta la parte tecnica che è fondamentale